Ok, vediamo il gatto per la prima volta alle prese con... Oh cazzo, e questo cos'è? E mo? Che fa mo, micio? L'acqua si sarà congelata, micio? Prende coraggio, vede che c'è una possibilità, non si muove di lì. Buon Natale, è tutto silenzioso. Agile. Neue. Tutta neue. Andiamo qua che è meglio, va. E girandole non girano più. Un compenso. Dove tira l'acqua si è ghiacciato, ma dove gira l'acqua ancora no. Questo è bene. La neue. Questi... ...se sono congelati. Vabbè... Tutto bianco. Un bel bagno in piscina. Un bel bagno in piscina. Qua ci sta pure la pista da sci. Il tubo. Qui c'era qualche uccellino. Che correva. Andiamo a recuperare il gatto, va. Mi vuoi. Freddo. Qua si è tutto riempito. Il rama è caduto. Ce l'ha fatta. Stasera ho spostato la macchina. Che si è riempita di neve. E' alta. Saranno 10 centimetri. Qua bisogna stare attenti. Sennò sai botto. E' il micio boh. Mici. Andiamo a recuperare, va. Se no. Andiamo a prima domani. E' la mia vita. E' la mia... la mia...